3 giugno 2017, ci troviamo a Porto Empedocle, un angolo meraviglioso della Sicilia. Alle mie spalle potete osservare la scala dei turchi. Ci troviamo al Madison di Porto Empedocle, dove oggi ci sarà il matrimonio di Anna Elisa e Domenico. Come al solito vi facciamo vedere qualche dettaglio, la postazione, qualche dettaglio della location e vi portiamo dentro al matrimonio di Anna Elisa e Domenico. La storia riva del canto che mi allegro sempre di cuore, sai perché? Voglio vivere così e sì, e sì, con il sole in fronte e felice il canto. Come avrò, i tuoi maci non sono semplici maci, uno solo che vale almeno a te. E per questo non vedo tu mi piaci, che ti compagno, va, va, baciami così. Il compagno è il mio loro, che ti morde con sostegno. Per questo non sono semplici maci, di piscina. Grazie per la visione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.